Questo argomento, che potrebbe sembrare una cosa da poco, è stato oggetto di tante discussioni dal punto di vista mediatico, perché io posso mai accettare l'aiuto di un scacchista della nazione del mio avversario? Risposta di Cazzo, praticamente. Pensavamo che il match fosse finito, pensavamo che non sarebbe successo più niente, invece è arrivata una roba assurda, una notizia scandalosa che ha gettato nel panico tutto un mondo scacchistico, perché subito dopo la fine del match è stato pubblicato un video che ritraeva il team di Garsen. E chi c'era mai nel team di Garsen? Daniel Dubov, che essendo un top player russo, che fa parte anche della nazionale russa, è stato oggetto di moltissime critiche, perché mi ha detto, scusami, non ho capito, c'è uno scacchista russo che gioca il mondiale e tu entri a far parte del team della concorrenza. Vediamo un attimo un articolo un po' che raccoglie tutte le opinioni in merito, e vediamo un po' anche i tweet che si sono avvicendati in questa storia, che hanno gettato veramente nel panico il mondo scacchistico, possiamo dirlo. Garsen, incoronato, Dubov, criticato, fa anche rima, c'è che bei titoli che danno su questo gesto troppo. Più in inglese che in italiano, forse funziona così per tutte le lingue questa cosa. Com'è partita questa vicenda? Quindi è partita con questo video pubblicato da Garsen, in cui si vedeva il team, no? Voleva mostrare e ringraziare anche il team. Una cosa che è emersa proprio da questo video è che l'ambiente che c'era nel team di Garsen era un ambiente molto rilassato, cioè di amici alla fine, no? Che si conoscevano da diversi anni. Tanto che, per esempio, Dubov era stato ingaggiato ben prima della fine dei candidati, quindi in realtà non sapeva neanche che Garsen aveva giocato contro un suo con nazionale. Quindi dopo questo video, chi è stato a gettare il seme della discordia, se così si può dire? Sergei Karyakin, che secondo me non perde occasione per dissare qualcuno su Twitter. Nonostante il risultato finale, sono orgoglioso di essere stato parte di questo team. Mi congratulo con il campione del mondo, tuttavia c'è una piccola osservazione che voglio fare. Immagina di dover giocare il campionato del mondo contro Garsen. Che fai? Accetti un aiuto tipo da Hammer o da Tari, che sono due con nazionali di Garsen? Quindi ha detto fondamentalmente, ma scusa, cioè io posso mai accettare l'aiuto di un scacchista della nazione del mio avversario? Risposta di Garsen praticamente sì, implicitamente no? Perché avendo accettato Dubov in squadra, ovviamente questa cosa è possibile. Io mi sento molto cosmopolita e quindi non credo che bisogna inserire queste barriere tra nazioni. È tutto completamente fair dal mio punto di vista, queste sono filippiche, inutili. Io anche penso che ovviamente ognuno è libero di aiutare chi vuole, tra l'altro il rapporto tra Dubov e Garsen va veramente al di là di tutto, perché sono proprio amici e Garsen in diverse occasioni ha mostrato il suo apprezzamento nei confronti di Dubov, ha detto che è uno dei pochi che riesce ad ispirare il suo gioco. È anche vero che la Russia è una nazione che ha sempre fatto squadra nei vari match, lo ricordiamo anche quando c'è stato Bobby Fischer tanti anni fa, la Russia contro Fischer, che è qualcosa che abbiamo sentito spesso, proprio perché loro hanno sempre fatto tanta unione. Posso capire nella loro psicologia che c'è stato quasi questo smacco, questo affronto, però obiettivamente Dubov era libero di aiutare Garsen. Poi tra l'altro Garsen deve veramente avere una forte stima per Dubov, perché non è facile altrimenti fidarsi di qualcuno che comunque è della stessa nazione del tuo avversario. Questo argomento, che potrebbe sembrare una cosa da poco, è stato oggetto di tante discussioni dal punto di vista mediatico, perché un sacco di scacchisti russi si sono espressi contro Dubov, appunto. Per esempio abbiamo Shipov, che nel suo canale Telegram ha detto «Oh, Dania, perché? Per quanto?» Cioè, non potevi metterti a commentare su una piattaforma di scacchi? Dopo aver fatto questa cosa, secondo Shipov, non dovrebbe giocare più per il team russo nelle competizioni internazionali. E questa cosa, permetteremo di dire, secondo me è una visione molto limitata dell'argomento. Semplicemente perché ci si sta chiudendo in questa logica nazionalista, che tra l'altro c'è un piccolo retroscena, forse, che non è troppo emerso da questa storia. E cioè che Kari Hakin, che ricordiamo è stato lo sfidante di Kars nel 2016, rimetto la foto, durante il match ha usato proprio questa propaganda «Riportiamoci il titolo in casa». Questa è stata, diciamo, la propaganda proprio della Russia in quel periodo, no? Perché non si vedeva da molto uno sfidante russo, appunto. Non ha funzionato e Kari Hakin poi, tra l'altro che aveva litigato con Nepo in quel periodo, subito dopo il match, è ritornato al centro delle critiche. Non gli fa, secondo me, onore. Anche Karpov ha detto «Se riceve uno stipendio dal team nazionale russo, non dovrebbe fare queste cose». È chiaro che se c'ha accordi diversi può fare quello che vuole. Secondo me allude anche al fatto che magari un giocatore russo, ovviamente quando sta in nazionale viene allenato, ha ricevuto dei fondi, fondamentalmente, no? Per avere lezioni e cose di preparazione. Quindi poi questi fondi, per vie, come dire, indirette, sono arrivati a Carlsen. Però c'è anche da dire questo, no? Che Dubov ha avuto, come ha detto poi successivamente in altre interviste, un contatto diretto con il campione del mondo di scacchi. E questa cosa, dopo il match contro Karuana, gli ha permesso di diventare campione del mondo rapid. Uno potrebbe anche vederla così, diceva proprio Dubov, che io, avendo fatto un'esperienza col campione del mondo, poi ho potuto vincere il campionato del mondo rapid, che non è mica un traguardo da poco. Il team di Carlsen era fondamentalmente, come dicevamo prima, un team di amici, no? E questa era una mentalità un po' europea. Mentre invece i russi cosa hanno pensato? Chiamiamo i più forti che abbiamo, facciamo sto team e accrocchiamo una squadra, senza che ci sia poi coesione nel gruppo. Infatti, per esempio, hanno fatto giocare a Nepo la russa, nonostante Nepo la russa. Nepo è un giocatore d'attacco, cioè li fa giocare la russa, non è una roba nel suo stile. Infatti, poi, non ha performato bene, no? Con questa apertura. Diciamo, l'approccio diverso delle due squadre sicuramente si è visto anche proprio durante il match, proprio anche per la preparazione in apertura. Nepo ha detto, in realtà dovremmo ringhiazzare Dubov, perché, se ho avuto delle chance in certe partite, è stato grazie alla preparazione in apertura che ha dato lui a Karsten, cioè alle linee che ha trovato lui. Quindi, in realtà, ha fatto una specie di contro-dissing, però che, in realtà, secondo me, anche un po' placa le acque del discorso, no? Cioè, almeno non ha usato la logica del ah, sei russo, hai tradito la patria. O ha provato a far apparire, no? Dubov quasi, no? Come se avesse tradito, perché, in realtà, le linee non erano troppo corrette. Immagino che, comunque, insomma, lo stesso Nepominiace abbia potuto chiedere un aiuto, comunque, a Dubov, quindi, comunque, in qualche modo, credo che sapessero. Diciamo, nell'ambiente si sapeva che Dubov sarebbe stato il secondo di Karsten, perché... Sì, secondo me si poteva immaginare. Avevano già iniziato a lavorare prima della fine dei candidati, appunto. Dubov ha detto che, anche se avesse potuto, diciamo, recidere il contratto senza problemi, Perché, ovviamente, per queste cose c'è un contratto, penali da pagare, eccetera, lui, comunque, dice, cioè, sto preparando un mio amico, di fatto, no? Che è il campione del mondo, che è il più forte giocatore della storia, queste parole sue, diciamo, no? Allora, abbiamo un tweet di John Ludwig Hammer, appunto, l'abbiamo citato prima, in quanto connazionale di Karsten, in risposta al tweet di Sergei Karyakin, di cui abbiamo parlato prima, no? In cui si è lamentato, Hammer dice, Karyakin ha fatto una frecciatina a Dubov, ma voglio soltanto assicurarmi, insomma, che tutti i futuri sfidanti di Karsten sappiano che io sono in vendita per il giusto prezzo, quindi, dice, se mi pagate, io partecipo a qualsiasi team, ma non ho problemi. Ha risposto proprio a Karyakin, no? Perché aveva citato sia lui che Tari. E, diciamo, il modo giusto per cercare di far placare le cose, no? Continuare a riderci sopra, senza dare troppo peso a questa cosa, che alla fine, diciamoci un po', lascia il tempo che trova. I motivi di Karyakin non sono poi così fondati, e sembra che stiamo tutti più o meno schierati verso... Contro di lui, anzi. Karyakin, però, non si ferma, perché dice, ma scusami, ormai sono in ballo, balliamo, ma che me frega! E quindi cosa fa? Condivide una foto di Emil Sutoski, che fa parte di FIDE, uno dei pezzi grossi di FIDE, che cosa indossa? La corona del campione del mondo e questo mazzo di fiori per farsi delle foto. Ed è stato criticato per questo motivo, in realtà, per correttezza, da entrambi i team. Quindi sono stati almeno d'accordo su questa cosa. Anche Nielsen, Peter Nielsen si è lamentato, perché Sutoski ha, diciamo, approfittato di questa cosa, secondo loro, per fare della propaganda. E infatti, per avere dei like facili, infatti qui abbiamo il tweet di Nielsen, che dice che incoronare i nostri campioni è una tradizione di lunga data degli scacchi. Non usate questi oggetti come giocattoli per far sì che i funzionari FIDE abbiano un po' di like sui social. va diciamo, è questo. È un sitresso. Io, qui,